Una vicenda decisamente poco regale. Il suocero di Pippa Middleton, sorella di Kate, moglie del principe William, è stato incriminato da un tribunale francese e fermato a Parigi per stupro di minorenne. I fatti risalirebbero al 98-99 quando Matthews si trovava in vacanza in Francia. Il caso giudiziario scaturirebbe da una denuncia presentata nel 2017. David Matthews, padre dell'uomo che Pippa ha sposato lo scorso anno a 73 anni ed è un ex pilota da corsa, ora uomo d'affari multimilionario.